Siamo tornati a verificare con la nostra telegramma quello che accade nei pressi dei mulini dove effettivamente permane una situazione veramente difficile situazione potrebbe darsi dovuta ma noi diciamo, naturalmente questo lo mettiamo con un punto interrogativo forse dovuta alla presenza di due clochard o comunque addirittura qualcuno in più che stazionano e hanno eretto quest'area come dormitorio ma per zona pranzo e tutto e quindi poi spesso i rifiuti della loro presenza rimangono lì e allora necessiterebbe probabilmente la possibilità da parte di CSP di intervenire con maggiore frequenza per rendere quell'area veramente godibile siamo nei pressi della stazione, vicino al supermercato e lasciamo il degrado nei pressi della stazione ferroviaria o meglio dell'area Feltrinelli o se preferite della zona intorno ai mulini per parlare di un problema che abbiamo già segnalato la scorsa settimana vale a dire quello della carenza, della mancanza della segnaletica stradale in particolare di quello che riguarda le strisce pedonali ebbene c'è da dire che alcuni interventi si stanno effettuando quindi forse anche grazie non soltanto certamente alle nostre segnalazioni ma l'amministrazione comunale sta intervenendo quindi è giusto anche dire, come si suol dire, dare a Cesare quel che è di Cesare gli interventi si stanno cominciando a fare per le caditoie, per la pulizia e si sono fatti per esempio anche degli interventi su via Bramante che è stata completamente ripulita dalle erbacce e anche ripulita nell'area nel manto stradale bene, parliamo quindi della segnaletica stradale un problema, si stanno effettuando i lavori per le strisce pedonali nell'area intorno al comune e allora è un problema che già avevamo indicato si fanno le strisce e subito dopo si tolgono i divieti e le macchine passano sopra quanto dureranno le strisce? Molto poco ci diceva una nostra telespettatrice che assisteva a questi lavori ma non sarebbe il caso di effettuare magari dei lavori permanenti magari mettendo delle mattonelle quindi stabilendo un tracciato laddove naturalmente è possibile che rimanga per anni e non soltanto per pochi mesi perché viene eliminato dalle macchine che passano sopra e che si portano via immediatamente la vernice bianca sono passate poche ore da questa mattina siamo andati a verificare ebbene già le strisce bianche sono diventate quasi tutte grigie grazie agli pneumatici che sono transitati sopra con le vetture quindi un problema forse sarebbe il caso di modificare un po' i lavori e di intervenire come? o facendo soltanto un lato lasciando asciugare poi naturalmente le strisce la vernice da quel lato per poi passare a quello successivo magari il giorno successivo quindi dando modo alla vernice di essiccarsi così servirà a molto poco durerà pochissimo speriamo di svegliarci con la nostra previsione